Oliverio che va ad amministrare la regione deve essere aiutato in questa opera, che è un'opera non semplice, è un'opera difficile perché è una strada in salita, però questa strada non ha alternative e noi dobbiamo percorrerla con determinazione. Noi il 23 sicuramente avremo un buon risultato perché il clima che si coglie è quello di una crescita della partecipazione, della fiducia, è un clima di grande attesa che mi carica ancora più di responsabilità per quanto mi riguarda. Però sono sicuro che a questa attesa, a questa fiducia sapremo corrispondere se insieme ogni cittadino si sentirà protagonista di questo impegno straordinario a cui siamo chiamati. Io sono sicuro che da questa realtà, che è una realtà di grandi tradizioni democratiche, verrà l'impulso necessario perché questa battaglia possa essere condotta con maggiore determinazione e forza. Io vi ringrazio sin da ora per il contributo e l'aiuto che darete in questa direzione e statene certi che questo contributo e questa fiducia non sarà tradita. Grazie.